salve a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video oggi è il nuovo shop che è arrivato il 3 settembre vediamo un po è uscito normalmente ci sono i personaggi per uscire il più veloce perché ragazzi live hanno detto che è bello è uscito ottimo lavoro molto semplice però è tanto bello vale della morte è uscito che sta qui di nuovo ci sono sempre i soldi da me lo compiere mai passo circuito e come ragazzi se ci fate caso c'è il target di black ops 4 che black ops 4 è stato sponsorizzato da fortnite quindi ragazzi questo è il nuovo shop ci vediamo al prossimo video ciao a tutti